Cosa fai durante il fine settimana? Sabato esco con la mia ragazza. E domenica vado in bicicletta. Sabato faccio un picnic nel parco. E vado a vedere un film. Domenica io vado in bicicletta. Con i soci del club di ciclismo. E tu cosa fai nel fine settimana? Sabato vado ad una festa. Un mio amico ha organizzato. Una grande festa per sabato. E andremo a divertirci tutta la notte. Domenica riposo a casa mia. Vado a giocare ai videogiochi. Buon fine settimana. Buon divertimento. Buon fine settimana. E ci vediamo la settimana prossima.